Accertamenti sugli sfollati che nel post-sisma hanno usufruito del contributo di autonoma sistemazione. In realtà si tratta di un'operazione vecchia, già in passato erano stati portati avanti dei controlli e più precisamente nel 2015 con quasi 1800 furbi scovati. Ora il Comune ha disposto ulteriori accertamenti a 6.000 persone su indicazione della Corte dei Conti. In sostanza il Comune valuterà se i beneficiari ne avevano diritto o se devono restituire le somme indebitamente percepite. Il CAS era stimato in base a dei parametri e variava da 200 a 500 euro. Accertato che molti prendevano il CAS senza averne diritto, il Comune già in passato aveva intrapreso delle azioni. La prima nel 2013 con la cessazione del CAS a chi poteva avere a disposizione un qualsiasi manufatto o comunque una soluzione abitativa. La seconda nel 2014 quando il Comune alloggiava le famiglie nel progetto Casio Mapp libero facendo cessare il contributo. Poi nel 2015 la fine della possibilità e i primi controlli effettuati. Oltre 3 milioni di euro la somma che il Comune avrebbe dovuto riprendere dalla prima traccia di controlli. Il Comune una parte della cifra già l'ha recuperata ma comunque l'accertamento ha dimostrato che molti hanno goduto di questo beneficio senza averne diritto effettivo. Visto che potenzialmente il Comune dovrebbe recuperare altri soldi, per non incappare nel dannerariale dovrà procedere ora a questa seconda tornata di controlli stabilita da una recente determina del segretario Lucio Luzzetti. L'operazione non è fatto semplice e molto complessa e non potendo paralizzare gli uffici comunali per questa ragione si è deciso di affidare il controllo alla società sui servizi che si occuperà di scovare i cosiddetti furbetti. La faccianda infatti ha il carattere della somma urgenza per evitare la prescrizione.